ben trovati amici del web il video di oggi è dedicato a un alimento prezioso per la nostra alimentazione che è il grano saraceno prezioso ma purtroppo molto sottoutilizzato dalle nostre parti perché purtroppo in italia abbiamo un bias spaventoso verso un sovrautilizzo del frumento in tutte le sue forme farina pane pasta pizza panini piadine eccetera eccetera che fatta eccezione per il riso del quale abbiamo un consumo significativo ma per il resto ruba la scena nel senso che va a discapito del consumo di moltissimi tutti quegli altri membri della famiglia dei cereali che invece dovrebbero occupare uno spazio decisamente maggiore e essere ruotati abitualmente sulle nostre tavole come orzo avena segale grano turco miglio riso selvatico fonio tef e come appunto il grano saraceno il grano saraceno nome scientifico fagopirum esculento è una pianta annuale appartenente alla famiglia delle poligonacee come anche il rabarbaro e l'acetosa o erba brusca cui abbiamo dedicato un video l'anno scorso originario della manciuria il grano saraceno fu coltivato per primo dai cinesi poi dagli indiani e raggiunse l'europa solo molto tardi tra il 14esimo e il 15esimo secolo passando attraverso la turchia ed è per questa ragione che in alcune lingue europee tra cui anche la nostra si chiama grano saraceno l'etimologia invece del nome inglese buckwheat passa dal nome con cui gli olandesi indicavano i semi del faggio che hanno effettivamente una forma simile a quella dei chicchi triangolari del grano saraceno ed è la stessa etimologia alla base del nome botanico fagopirum da fagus latino per faggio e piros greco antico per frumento quello che in tutti i casi rimane sempre il nome grano assai fuorviante perché il grano saraceno non solo non ha nulla a che fare col frumento ma non appartiene neppure alla stessa famiglia botanica e infatti non è un vero cereale in nutrizione a questi alimenti che non sono cereali botanicamente detti ma sono loro accomunati da caratteristiche nutrizionali simili ci riferiamo col nome di pseudo cereali e i tre principali sono appunto il grano saraceno poi quinoa e amaranto anche questi due ottimi alimenti che dovrebbero essere fatti ruotare abitualmente nella nostra alimentazione e a cui avevamo dedicato un video un po di anni fa il grano saraceno è molto virtuoso dal punto di vista agricolo nel senso che è una cultura davvero molto adattabile e resistente innanzitutto matura velocemente in poco più di due mesi e quindi può essere coltivato nelle regioni più fredde con stagioni di crescita più brevi poi si adatta a terreni poco fertili inadatti al frumento all'orzo e persino alla segale poi ancora tolera altitudini più elevate e ha bisogno di poca acqua quindi tollera anche poche precipitazioni insomma cresce anche dove non può crescere molto altro dal punto di vista nutrizionale abbiamo detto lo accomuniamo ai cereali quindi la sua casella è in questa categoria di alimenti vedete in questa mappa i principali cereali e pseudo cereali utilizzati in alimentazione umana sulla base della loro zona di origine rispetto al frumento il grano saraceno non contiene glutine per cui può essere consumato tranquillamente dai celiaci ma ovviamente l'assenza di glutine rende la sua farina non panificabile di per sé in realtà il grano saraceno contiene piccoli quantitativi di carboidrati appartenenti alla famiglia delle mucillagini che gli conferiscono una certa collosità pura in assenza di glutine e la capacità di assorbire molta acqua ma comunque per preparare degli impasti di sola farina di grano saraceno bisogna lavorare a lungo e sapendo come fare se no si spezzano come niente fare i soba noodles a mano con 100% di farina di grano saraceno è difficilissimo più avanti ci cimenteremo con delle galette bretoni di certo non si può però fare nulla a lunga lievitazione e tantomeno un pane degno di tale nome a meno di mescolare la farina di grano saraceno con un quantitativo pari di farina di frumento oppure di un utilizzo massiccio di tutti quegli additivi destinati alla panificazione senza glutine ma senza l'uno l'altra cosa verrebbe un pane estremamente compatto duro senza alveolatura e che si sgretola come nulla si possono però fare crostini schiacciatine biscotti eccetera ad ogni modo il modo più intelligente di usare il grano saraceno non è tanto cercare a tutti i costi di fargli fare da frumento con risultati che saranno inevitabilmente e deludenti quanto piuttosto usarlo nelle preparazioni nate e pensate su misura per lui in francia ad esempio è il tipico ingrediente delle galette della cucina bretoni e crepes fatte col grano saraceno in giappone è l'ingrediente dei caratteristici soba noodles forse l'alimento più caratterizzante della dieta giapponese dal sedicesimo secolo in poi ma il grano saraceno in giappone ha un utilizzo ben più antico già un editto imperiale dell'ottavo secolo ne spingeva la coltivazione come backup in caso qualcosa andasse storto col raccolto del riso tostando i chicchi si ottiene il cascia tradizionale di europa orientale e russi anche se li si chiama cascia qualunque cereale tostato mentre in occidente si è adottato questo nome solo in riferimento al grano saraceno per il resto in europa si usa principalmente per preparare porridge e una sorta di pancakes molto densi in italia invece i suoi utilizzi più tradizionali non sono da solo ma in abbinamento ad altri cereali e nello specifico insieme alla farina di mais per la preparazione della polenta taragna e insieme alla farina di frumento per la preparazione dei pizzoccheri valtellinesi allora come si trova il grano saraceno in commercio principalmente la farina oppure il chicco decorticato molto più raramente si trovano in commercio i chicchi integrali che si riconoscono perché sono molto scuri quasi neri in alcune varietà ma sono assai tediosi da cuocere perché faticano moltissimo a idratarsi molto più facile invece trovare la farina di grano saraceno integrale che si riconosce sempre dal suo colore grigio scuro e in cui se si guarda da vicino si riconoscono ad occhio nudo i pezzettini neri della sua crusca e la si trova abbastanza facilmente in italia soprattutto al nord perché è quella che si usa per fare la tradizionale polenta taragna o i pizzoccheri i chicchi interi invece si utilizzano generalmente decorticati cioè privati dell'involucro esterno e sono riconoscibili dal colore più chiaro il grano saraceno decorticato resta comunque un eccellente alimento ancora molto ricco di polifenoli circa lo 0 7 per cento in peso alcuni dei quali responsabili del suo caratteristico gusto astringente ma anche di lipidi ne ha di più rispetto alla media dei cereali da cui la più breve shelf life dei chicchi e delle farine quanto alle varietà quelle in commercio sono principalmente due in realtà due specie diverse fagopirum e sculentum appunto il grano saraceno comune più adattato alla coltivazione e poi fagopirum tataricum detto anche tartaribacuito grano saraceno siberiano che è una produzione minoritaria ma più vicina alla varietà selvatica quindi nutrizionalmente più densa ma anche più amarognola per il maggior contenuto di polifenoli e dai chicchi più scuri anche internamente sempre per via dei polifenoli gastronomicamente il grano saraceno ha un aroma molto particolare leggermente astringente per via dei suoi polifenoli con forti note nocciolate e minori note affumicate erbose e persino di pesce alimento con cui proprio per questo tende ad abbinarsi molto bene dei suoi fiori che sbocciano in estate sono molto ghiotte le api il miele monovarietà di grano saraceno è un miele molto scuro per via del suo elevato contenuto di proteine che insieme agli zuccheri partecipano a reazioni di imbrunimento tornando ai semi invece che ci mangiamo noi per quanto concerne il profilo nutrizionale vediamo a titolo di confronto il profilo del grano saraceno con quello di qualche altro cereale non ovviamente con l'idea di dire meglio uno è meglio l'altro o di dire meglio preferire il grano saraceno al riso o al frumento bensì esclusivamente per aiutarci a cogliere le unicità e i tratti distintivi di ciascun cereale nell'ottica di promuoverne la rotazione quindi di una dieta più varia in cui facciano capolino a turno sui nostri piatti tutti i cereali e gli pseudo cereali che abbiamo a disposizione col grano saraceno siamo sulle 350 calorie per etto che nella media dei cereali come pure in linea il contenuto di amido intorno al 60 per cento il contenuto proteico è del 13 per cento che è molto buono nella categoria dei cereali ma le notizie ancora più buone riguardano la qualità di queste proteine che è nettamente superiore alla media dei cereali e in linea con quella degli altri due pseudo cereali amicchino e amaranto principalmente dovuto al fatto che il contenuto di lisina l'aminoacido normalmente limitante nei cereali in queste piante è nettamente superiore come accennavamo prima non è trascurabile neppure il contenuto lipidico che si aggira sul 3 4 per cento e sono per lo più lipidi insaturi mentre il contenuto di fibra è molto variabile a seconda del tipo di raffinazione nella farina integrale può arrivare al 18 per cento nei chicchi decorticati siamo in genere sul 10 per cento che comunque rimane un contenuto più che ragguardevole minerali come tutti i cereali non è una buona fonte di calcio in quanto nettamente superato dal fosforo mentre è decisamente al di sopra della media il contenuto di rame ed ha un importante contributo anche al fabbisogno di magnesio di manganese di zinco e di ferro vitamine infine sono ben rappresentate tutte quelle del gruppo b con un contenuto di niacina e di riboflavina al di sopra della media nella categoria dei cereali quanto ai fitocomposti extra nutrizionali il grano saraceno è molto ricco di polifenoli quelli decisamente più abbondanti appartengono alla famiglia dei flavonoli e il più rappresentato in assoluto è la rutina seguita dalla quercetina ma si trovano anche polifenoli di altre famiglie quali flavoni flavanoni catechine antocianine isoflavoni e tannini segnalo questa review per chi fosse interessato a un'analisi più dettagliata della composizione del grano saraceno come risultato del suo profilo nutrizionale e fenolico gli sono attribuite proprietà antibatteriche e antifungine antiossidanti anti infiammatori antitumorali ed epatoprotettive oltre alle attività benefiche sul sistema cardiovascolare e sul metabolismo dell'insulina tipiche dei cereali integrali quindi di aiutare a controllare pressione del sangue fluidità del sangue trigliceridi colesterolo glicemia e insulinemia ad esempio in questo studio condotto in un gruppo di 162 pazienti con diabete 2 a metà dei quali per un mese venne sostituito un piatto al giorno della loro dieta normale con una porzione di grano saraceno si osservò una riduzione statisticamente significativa dell'insulinemia digiuno del colesterolo totale e del colesterolo ldl e nel sottogruppo con un maggior intake di grano saraceno anche un miglioramento dell'indice di insulino resistenza e questo solo dopo quattro settimane di intervento poi ancora va segnalata la sua spiccata attività prebiotica quindi a sostegno di un buon microbioma intestinale dovuta sia alla sua fibra che ai suoi polifenoli che al contenuto di un particolare tipo di inositolo caratteristico solo del grano saraceno e peraltro anch'esso associato a particolari effetti antidiabetici da ultimo il grano saraceno è molto studiato anche per le sue potenzialità neuroprotettive quindi di prevenzione nei confronti delle malattie neurodegenerative anche se al momento tutti gli studi al proposito sono stati condotti solo sul modello animale per chi fosse interessato a una discussione più dettagliata dei vari benefici per la salute associati a un consumo regolare di grano saraceno e degli studi che sono stati pubblicati in letteratura scientifica segnalo le tre review che vedete indicate qui a fianco e così siamo arrivati alle indicazioni più concrete su come utilizzarlo il grano saraceno in chicchi è molto facile da cucinare perché ha una cottura molto veloce in realtà al suo amido basta idratarsi tanto che tecnicamente se voi lasciate i chicchi decorticati in ammollo tutta la notte poi potete anche mangiarveli direttamente così senza cuocerli saranno ancora un po croccanti e il sapore sarà più erboso e meno nocciolato ma comunque si possono tranquillamente mangiare come tali senza alcuna cottura ad esempio distribuiti su un'insalata non è comunque il modo gastronomicamente più esaltante di consumarli perché è la cottura che ne esalta gli aromi caratteristici l'ammollo prima della cottura non è necessario ma voi sapete che io lo raccomando sempre per i cereali come per i legumi perché in ogni caso è migliorativo del profilo nutrizionale per cui se già prevedete di utilizzare il grano saraceno domani meglio metterlo in ammollo oggi in una bella ciotola coperto d'acqua e poi da un piatto rovesciato o da uno strofinaccio pulito e lasciarlo lì a temperatura ambiente però se invece siete di fretta e decidete l'ultimo momento nessun problema il grano saraceno si può cucinare lo stesso il modo più immediato è di metterlo in una casseruola con una quantità di acqua pari a più o meno una volta e mezza al suo volume poi coprire col coperchio cuocere circa tre minuti da quando bolle poi spegnere il fuoco e aspettare altri dieci minuti a fuoco spento senza togliere il coperchio durante i quali si completerà la cottura e l'acqua verrà completamente assorbita poi scoperchiate sgranate ed è pronto da servire un altro metodo di cottura invece è a secco in forno per fare il cascia in questo caso si tratta di mettere il grano saraceno in una teglia da forno con un filo d'olio del succo di limone e condimento a piacere tipo sale pepe e peperoncino massaggiare un po con le mani per distribuire il condimento e infornare a 170 gradi per circa un quarto d'ora mescolando una volta a metà cottura se fate questa operazione coi chicchi secchi verrà più croccante asciutto e gommoso se invece la fate coi chicchi lasciati precedentemente in ammollo verrà più morbido generalmente al nostro palato italiano è più gradito in questa seconda modalità ma si tratta di gusti personali a me piace anche quello un po' più masticoso qui ad esempio il nostro cascia lo usiamo come accompagnamento per una sevice di cefalo e avocado con una crema di anacardi avevamo messo in ammollo una manciata di anacardi per almeno qualche ora o il giorno prima e adesso in un mixer uniamo gli anacardi ammollati un ciuffo di erba cipollina il succo di un quarto di limone sale pepe peperoncino e un bicchierino di acqua ghiacciata frulliamo fino a ottenere un composto omogeneo e teniamo da parte tagliamo un avocado a cubetti e irrorriamo con il succo di limone tagliamo anche due filetti di cefalo crudo in quantità circa pari a quella di avocado privati delle spine sempre a cubetti di dimensioni circa pari a quelle dell'avocado irrorriamo anche lui con il nostro succo di limone e contiamo a piacere con olio sale pepe e peperoncino mescoliamo bene e trasferiamo in frigo per almeno un'oretta al momento di servire uniamo l'avocado al cefalo e mescoliamo bene poi in un bicchiere di servizio disponiamo una base di cascia di grano saraceno uno strato di crema di anacardi e infine la sevice di cefalo e avocado decoriamo ancora con un cucchiaino di salsa qualche ciuffetto di erba cipollina e una fettina di limone ed ecco pronto un piatto fresco e leggero ma nutrizionalmente molto ricco vediamo invece ora un esempio di cottura dei nostri chicchi in umido li useremo come accompagnamento per il polpo ricordate che il grano saraceno si sposa sempre molto bene ai prodotti etnici il polpo lo facciamo bollito portino pazienza coloro che non sopportano di veder cucinare il polpo in altra acqua che non sia la sua secondo me viene benissimo in entrambi i modi ma preferisco l'acqua abbondante perché poi mi permette di conservare il fumetto che è quindi porto ad ebollizione abbondante acqua insieme al succo di mezzo limone un ciuffetto di prezzemolo fresco tre foglie di alloro sale pepe e peperoncino immergo i tentacoli del polpo poi il polpo e cuocio a pressione per circa 15 minuti dal fischio della pentola quindi spengo la piastra e attendo che il polpo si raffreddi nella sua acqua di cottura nel frattempo taglio a striscioline sottili un pezzetto di verza cruda evitando le foglie più esterne che sono più adatte alla cottura ci metto un leggero condimento con olio succo di limone sale pepe e peperoncino e mescolo molto bene tengo da parte intanto che la verza si ammorbidisce in una padella verso circa un bicchiere di grano seraceno e aggiungo come dicevamo prima circa una volta e mezza il suo volume di acqua e visto che qui di fianco ho la saporitissima acqua di cottura del polpo uso direttamente quella copro lascio cuocere tre minuti poi spengo la piastra lascio lì altri dieci minuti prima di togliere il coperchio e sgranare l'acqua di cottura del polpo che mi avanza la filtro e la conservo in congelatore da usare successivamente come fumetto di pesce per zuppe o primi piatti il polpo invece lo taglio a pezzetti con un coltello affilato e anche per lui un condimento leggero con olio di oliva succo di limone e prezzemolo tritato mescolo bene e metto da parte al momento di servire prendo un piatto ampio e sulla base dispongo per metà l'insalata di verza cruda e per metà il grano saraceno tiepido dispongo quindi il polpo e completo con prezzemolo fresco tritato e uno spicchio di limone ed ecco pronto un ottimo piatto unico ma ora lasciamo da parte i chicchi e consideriamo per un momento i soba questi noodle sono davvero ottimi sia in brodo che asciutti ad esempio qui li serviamo con delle verdure al wok e del tofu setoso anche in questo caso otterremo un piatto unico che è anche un esempio di abbinamento tra cereali e legumi in questo caso il grano saraceno dei soba e il cereale la soia del silky tofu il legume abbiamo qui vedete un po di verdure innanzitutto dei funghi shiitake secchi che mettiamo in ammollo in un po di acqua tiepida poi mezzo lime due spicchi d'aglio una manciata di coriandolo fresco un pak choi una cipolla fresca una carota dei germogli di soia e un blocco di tofu setoso tagliamo a spicchi sottili il lime trituriamo gli spicchi d'aglio e il coriandolo fresco tagliamo a pezzetti il pak choi il cipollotto con tutto il suo gambo verde e la carota la tagliamo a striscioline con l'aiuto di un pela patate come condimento stemperiamo un cucchiaino di estratto di lievito in un po d'acqua in un wok con un filo di olio di sesamo sulla base facciamo saltare l'aglio il lime e il gambo del cipollotto quindi aggiungiamo uno alla volta sempre mescolando il resto del cipollotto poi i funghi strizzati poi il pak choi le carote il coriandolo e i germogli di soia aggiungiamo anche il lievito stemperato nell'acqua e il tofu che rompiamo piano piano con le bacchette mentre si scalda incorporandolo al resto degli ingredienti nel frattempo portiamo ad ebollizione una casserola d'acqua e vi immergiamo i soba per qualche minuto seguendo le istruzioni riportate sulla confezione per quanto concerne le tempistiche quindi scoliamo i noodles e li trasferiamo nel wok con la verdura saltando ancora un minuto e mescolando bene per amalgamare gli ingredienti non ci resta che servire ancora con una spruzzata di lime e del coriandolo fresco e per finire facciamo qualcosa anche con la farina integrale di grano saraceno ci facciamo una galette bretone che è di fatto una crepe ma fatta utilizzando la farina di grano saraceno dell'impasto in una ciotola versiamo circa 125 grammi di farina di grano saraceno integrale un pizzico di sale 150 grammi di acqua e un bicchierino di sidro o di acqua frizzante la cui anidride carbonica aiuterà ad areare il composto mescoliamo molto bene con una frusta per sciogliere i grumi e areare il composto copriamo e attendiamo almeno tre ore ma idealmente un giorno intero mescolando il composto di tanto in tanto per una consistenza più elastica possiamo sostituire 25 grammi della farina di grano saraceno con una equivalente quantità di farina di frumento bianca oppure potremo anche aggiungere un uovo al composto con un impasto di sola farina di grano saraceno e acqua sarà molto difficile che la galette non si spezzi nel momento in cui gli angoli verranno ripiegati su se stessi ma noi oggi comunque ci proviamo lo stesso in una crepiera o una larga padella leggermente unta di olio disponiamo il composto e muoviamo la padella affinché si distribuisca uniformemente non appena si riesce a staccare dal fondo e comincia a fare le bolle in superficie tappovolgiamo la galette con l'aiuto di un coperchio o di un largo piatto trattandola sempre con molta delicatezza perché mancando l'utile non ha resistenza elastica per il condimento seguiamo la ricetta più tradizionale della galette complet quindi disponiamo al centro due fette di prosciutto cotto un uovo e del formaggio gruyere grattugiato e ripieghiamo delicatamente i quattro angoli della galette in modo da formare un quadrato vedete che non siamo stati abbastanza veloci a compiere tutte le operazioni quindi già si spezza poco male sono solo i bretoni ad avere i poteri magici per riuscire a non romperla completiamo la cottura col coperchio e a fiamma molto bassa fino a che l'albume dell'uovo sarà bianco e serviamo con una spolverata di pepe nero appena macinato e se questo è il ripieno più tradizionale si possono utilizzare infinite varianti di ripieno anche vegetariane molto popolare ad esempio il ripieno con la fondue de poire o il porro lasciato caramellare in padella finché morbido e traslucido ecco ad esempio come prepararla in modo gustoso abbiamo qui un bel porro una cipolla fresca e dello scalogno tagliamo a striscioline sottili la cipolla il porro a rondelle sottili che poi dividiamo ulteriormente in due e lo scalogno triturato finemente mettiamo da una parte la base della cipolla e lo scalogno e da un'altra il gambo verde della cipolla con il porro abbiamo anche vedete un bicchierino di madera e qualche cucchiaio di panna fresca per una versione vegana potete sostituire la panna con del tofu cremoso o del latte di cocco ora in una padella con un filo d'olio lasciamo dapprima soffriggere lo scalogno e la cipolla finché traslucidi poi aggiungiamo un po per volta il gambo della cipolla e il porro mescoliamo bene mettiamo a piacere un po di sale pepe peperoncino poi anche il nostro bicchierino di madera e lasciamo cuocere piano piano a fiamma molto bassa per una ventina di minuti e alla fine incorporiamo anche qualche cucchiaio di panna e mescoliamo bene sul fuoco ancora per un minuto circa e dicevamo questa fondue ottima come ripieno per la galette breton ma noi qui la usiamo come condimento per un'ultima preparazione da fare con la farina di grano saraceno che sono degli spezzle uniamo in una ciotola 75 grammi di farina di grano saraceno e 25 grammi di farina di frumento perché in questo caso un po di glutine è indispensabile poi ci mettiamo anche un uovo e un po di sale e cominciamo a mescolare aggiungendo acqua quel minimo che serve per ottenere un impasto omogeneo ma ancora bello denso quindi attenzione ad aggiungere acqua poco per volta in modo da non ottenere un impasto troppo liquido poi copriamo con un piatto o un panno pulito e lo lasciamo lì almeno un'oretta ma anche due o tre se abbiamo tempo poi diamo ancora una bella mescolata e siamo pronti per la cottura in una casseruola con acqua bollente lasciamo colare l'impasto utilizzando l'apposito spezzle oppure uno schiacciapatate o come ultima risorsa lasciando gocciolare l'impasto da un cucchiaio poi lasciamo cuocere circa 5 minuti a fiamma bassa scoliamo i nostri spezzle di grano saraceno e li incorporiamo alla fonduta di porri al madera diamo una bella mescolata e siamo pronti per servire se si desidera anche con una spolverata di formaggio grattugiato e per finire vi ricordo anche un'ultima ricetta che avevamo preparato insieme nel video dedicato a come cucinare i cereali fermentati che era la pissala di air di grano saraceno fermentato con cipolle aglio timo e sardine e con questo signori io mi fermo per oggi prima di lasciarci vi ricordo il sito www.spaziosfera.com dove trovate anche gli appunti per la preparazione dei piatti che abbiamo visto insieme oggi e poi gli account social su instagram twitter e facebook è spaziosfera e a questo punto c'è ancora solo una cosa da non dimenticare mai che è questa vita quieta mente lieta e moderata dieta tutto chiaro very food grazie a tutti grazie a tutti